Ciao da Dove al Sud! Oggi siamo a Pisticci con Daniele e Daniela! Iniziamo la nostra passeggiata, siamo al Dilupo. Seguiteci! Cominciamo con uno scorcio bellissimo. Vedete le casette bianche. La chiesa dell'Immacolata Concezione. Da qui vi faccio vedere una panoramica del paese che è veramente favolosa. Micio! Micio! Proseguiamo con la nostra passeggiata, c'è Daniela e la mia ombra. Siamo in piazza La Salsa e qui, come potete vedere, siamo in pieno clima natalizzo. Vediamo un'altra panoramica. Guardate che bella a Pisticci. Daniela, facciamo questa scalinata. Sai che a Pisticci si cammina e si sale molto. Sì, infatti. Ci manteniamo in forma. Siamo in terra vecchia, il rione più antico di Pisticci. Che spettacolo! La chiesa madre dei santi Pietro e Paolo. Siamo in terra vecchia e questo è il bel vedere sul dirupo. Semplicemente meraviglioso. Guardate, con la chiesa madre. Su una casa si vede la pacchiana di Pisticci, il costume tipico. Siamo dietro ai ruderi del castello di Pisticci dei Resti e qui ci sono i calanchi. Guardate che panorama spettacolare. Il serbatoio di Pisticci. È uno scorcio molto caratteristico da venire a vedere. Proseguiamo con la nostra passeggiata in terra vecchia. Un altro scorcio molto bello con i palazzi antichi. Siamo in via Mazzini. E poi è all'alto della porta. Adesso scendiamo. Dove siamo qui, Dani? Siamo in piazza Previscito o San Rocco e la chiesa di San Rocco, il patrono di Pisticci. Sì. Noi veniamo sempre alla festa di San Rocco. Tutti gli anni. Tutti gli anni. La torre dell'orologio, sempre in piazza Previscito. Daniela, perché siamo qui? Perché qui in via Giulio Cesare sei nato tu. E certo. Questo è uno scoop. Siamo in Rione Loreto e sotto ci sono le cammarelle dove io andavo a giocare quando ero piccolo. Vi regaliamo un'altra panoramica favolosa dal Belvedere. Oggi è anche una giornata bella soleggiata, anche se fa freddo Dani. Sì, fa molto freddo. Siamo in piazza Sant'Antuono. Siamo in corso Margherita, un po' dopo pranzo. Si respira l'aria natalizia. Siamo in piazza Umberto I a Pisticci. E questo è il convento di Santa Maria delle Grazie. La chiesa di Sant'Antonio. Siamo in piazza dei caduti. E quello è il palazzo Gian Antonio. Siamo all'interno dell'unicipio. E qui siamo in un angolo vintage di Pisticci, l'ex cinema Colosseo. Quasi quasi, andiamo a prendere qualcosa da bere Dani. Sì sì, ho voglia proprio di un caffè che ancora non l'ho fatto oggi. Ok, è andata. Andiamo. Facciamo un'altra panoramica sul mare, in fondo, si vede molto in fondo, e sulla collina. Ciao Pisticci, da dove al sud? Ciao da Daniele. Daniela. Ciao.